buongiorno e dove andiamo questa mattina lunedì 28 giugno lunedì 28 giugno andiamo a visitare l'orrido di slizza tarvisio è una forra anche questa creata da un fiume e dovremmo trovare un percorso che ci permette di camminare proprio adiacente alle rocce alle pareti scavate dal fiume superata questo attraverso la scala di legno si raggiunge uno sperone roccioso sopra i quali si raggiunge una stella in pietra dedicata a carlo d'arco di limbergo grazie a tutti 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 l'abbiamo fatto l'altra volta l'abbiamo entrati dal giro dell'orrido abbiamo parcheggiato qua praticamente dietro la stazione Tarvisio Bosco Verde 2 km 3 quarti d'ora